Grazie Presidente, desidero a nome di Fratelli d'Italia associarmi con ogni calore a questa grande notizia che ci è data, come ha detto il Senatore Sensi, grazie all'impegno soprattutto di tantissime persone, organizzazioni non governative, associazioni, opinione pubblica che sono quelle che hanno poi sostenuto da sempre anche la conclusione di una vicenda purtroppo troppo tardi che ha riguardato il nostro connazionale, mai dimenticato neanche per un secondo, Regeni, ma vorrei in particolare rivolgere un segno di forte, attento, doveroso riconoscimento all'azione svolta dal Governo italiano, dal Governo del Presidente Meloni in questi mesi, in queste ore, a seguito sicuramente di un'azione diplomatica attenta, un'azione che spesso non è stata compresa anche con volontà di non comprendere, ma che ha portato con la sobrietà talvolta e anche la riservatezza con la quale le azioni vere, negoziali, si possono portare avanti, ha portato a questo risultato. Era da qualche giorno che si parlava di questo segno di grazia. Adesso si sgombra un'enorme nuvola nei rapporti fra Italia e Egitto ed è veramente con grande soddisfazione che il gruppo di Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di un passo così decisivo da parte egiziana, ma così condiviso, senza clamori, senza battere pugni sul tavolo, senza alzare troppo le voci, ma facendosi valere in modo serio e determinato nei rapporti fra Stati e nei rapporti fra Governi. Una situazione che rischiava di creare delle difficoltà nella difficile presenza di ruolo del nostro Paese nel Mediterraneo orientale è finalmente risolta e non possiamo che compiacercene. Grazie.